bello è figo 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 ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video benvenuti in questo nuovo vita da set siamo a Brescia oggi giriamo un videoclip qui stiamo per iniziare un set molto lungo finiremo questa notte barra domani mattina alle 3 tante cose da fare alcune cose molto impegnative però sono molto propositiva perché secondo me verrà una figata partiamo subito con la prima scena siamo in tutti i skate park il primo dei tre ricordi che vedremo all'interno di questo videoclip birre, parchetto, skate, risate andiamo uno lo mettiamo su tutto per terra facciamo una prova anzi pure sull'ambord scusa ce l'abbiamo scusiamolo allora ce l'abbiamo qua e proviamo a mettere qui come stavo io un po' qui è comodo come si mette lì scena estate tra voi quattro a chiacchierare a casteggiare a bere giù una pietra sto facendo quella è la totale poi facciamo l'oro due con la quinta di genere l'oro due potrebbe diventare una cosa di questo tipo se dobbiamo falsarla un po' per avere almeno qualcosa le bottiglie che fanno il brindisi un po' dal basso primo piano su adesso ci spostiamo in interna e partiamo con il secondo ricordo del video di oggi andiamo siamo arrivati nella seconda location e qui stiamo per fare un'altra parte di ricordo che ci servirà per tutta quanto la nostra storia la scena è abbastanza veloce ma per prepararla ci vuole un po' perché dobbiamo montare le luci abbiamo iniziato a spostare il divano noi dovremmo spostare quest'altro mobile insomma un bel po' di cose per due secondi di clip di video però ogni cosa va fatta come deve essere fatta per portarsi a casa un risultato fictissimo dai io posso farvi riparente a Maria di Burzu così si bagnano da qualsiasi cosa sotto quando suono vado sempre di cose così manca qualcosa a lui è questo di adesso va bene allora ce l'abbiamo l'uscita serale ne cambiamo giusto la maglietta tanto usiamo tipo quella del Nirvana piuttosto ok va bene da questo punto di vista ci siamo si possiamo cominciare a capire noi invece cosa è alla fine il muro di chitarra è bello solo che così è tutto incastrato lo possiamo vedere se facciamo una roba da qua si si esatto qui hai il spazio di manovra ci stacchiamo la luce può entrare da là da dietro rialzata col C o se vuoi tenerlo più scuro sposerai tutto qui tu da dove vuoi cioè dove ti piace più la stanza in realtà mi piace un po' tutto quanto quindi possiamo tenere tutto l'unica cosa è che magari se la facciamo da qua proprio ci abbiamo proprio paresemente già il muro ed è abbastanza mezzo bianco quindi magari se la facciamo da di qua cioè quindi da di là verso di qua c'è quella zona il bianco che mi disculpa è questa zona qua certo andava a 100 la scatata di stai sponendo così dovrebbe essere buona poi vai su poi trovate a spostarti più o meno dove c'è lo che sai possiamo usare la 150 poi anziché usare la musina possiamo anche la giriamo la proviamo e vediamo come viene poi quello che dobbiamo aggiustare la giustiamo e prima di questo ci cosa ehi Siri ci siamo più in assoluzione mi serve un'esultazione da gol allora raga abbiamo finito questa scena adesso ci spostiamo e andiamo in una nuova location allora raga nuova location prime scene del video bisognerà simulare una sorta di incidente persona che sta male che non si sveglia che sta buttata a terra dopo un collasso abbiamo fatto le prove in casa in realtà sembrava andare tutto bene quindi speriamo che siano bravi anche adesso dobbiamo aspettare un po' che scende il sole deve sembrare un po' che sia l'alba ed è un po' troppo presto poi dopo ci abbiamo sempre qui vicino una scena che è verso la fine del videoclip che però a livello temporale di storia va a procedere quella che stiamo per girare vediamo che succede la testa di qua è finita la testa di qua è finita questa è la battaglia, la battaglia di magenta vieni vieni qua tutto questo con una comoda maglia di muscoli io la farei più per non avere il collo a favore camera d'acqua non pulsate i cani fuori è bollente la cosa ma cosa gli da fastidio di più? le zampe sotto sono dei cucinetti coprigele no ma si muori bene fighe se mi è morto male questa è sparta la testa è come un cocomero come degli horror degli anni 70 i capelli in realtà ce li hai sminchiati perchè sei tutto sballato va bene il caffè lo puoi mettiamolo lì è molto caldo poi in color dovrai se vuoi alba raffreddare un po' si allora mo l'ho messa per vedere un attimo l'ho messa a 8 e 5 torno a 6 a 5 e 6 come stavamo prima allora decidiamo la sua posizione che deve essere la stessa che poi teniamo sempre allora la giriamo così allora facciamo che mettiamo tutto il slow mountain facciamo la scena che è questa qua continuate fino a che non vi dico basta ok il motore sta girando azione stop ok la velocità dei movimenti come la vedi eh va bene facciamo soltanto la scena in cui loro ancora non ci sono ci sei tu che hai gli occhi chiusi li apri e guardi un po' a destra e un po' a sinistra e poi al mio via entrate anche voi con le mani quindi state già là accanto a lui al via al via al via al via stop ti lasciano da infibillazione allora allora io farei il playback a questo punto sei comodo è molto di scoglioso si di te mi funziona a voi piace io sto girando vai con il pezzo raga bello è figo 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 allora io sono Lex mettetevi come stavate su di lui muovetemi le gambe come se fosse lui continuate ad urlare siete pronti? ok il motore sta girando e via ex can you hear me? ex can you hear me? call it call it quickly can you hear me? call the ambulance please call the ambulance call it now ex ex se ogni tanto vuoi bere ci sta il motore gira e azione va bene pausa cena raga quindi una è ripresa da qua che è quella di lui da solo e l'altra è quella presa da di là con lui buttato su di lei perché se non c'ho il cambio di inquadratura non mi funziona il fatto che lei poi sparisca va bene allora la situazione è questa noi non ci siamo scherzate come due fidanzati vai avevo il cambio dentro la schiena domani fisioterapia allora ora abbiamo la scena più complicata del mondo anche tu sei se tu che guardi il pupazzo stop super io ho preso male la pena o cazzo? eh ti vedevo questa inquadratura dura il tempo di un rumore della musica proprio ma se stavo facendo tutte le robe di due secondi il resto del video è la Danila che fa così si esatto ora riempiamo il playback va bene andiamo a fare finalmente i playback del video perché ancora non abbiamo cantato con tutta la band andiamo io sono pronta sperando che non ci cacciino visto che è mezzanotte passata ma stiamo a personare con una batteria acustica fuori vediamo riega date il massimo la motore sta girando vai vabbiamo qualcuno è seduto a quel tavolo qualcuno la chiacchiera facciamo lasciare acqua brindate bevete facciamo un po' di casino e adesso l'abbiamo siamo in ritardo di tanto ritardo è tutto vuoto decide o tutto all'aria un pacco coperto e culo aperto un slip sono in comodoni metto le slip on ciao papapapa che in realtà in ospedale non fanno togliere il ritmo che non ti abbiano operato allora la scena è questa sei uscito dall'ospedale scalzi col braccialetto al polso sei nel parcheggio cammini ti fermi ti guardi intorno urli un cazzato con la vita niente porti le mani al volto butti giù così e poi chiudi te che respiri abbastanza affannosamente con lo sguardo perso nel vuoto ok e poi dopo facciamo la pancria e questo con le mani al volto ok come se vorresti strapparti da bene era buona ok panchina c'è un po' di Forrest Gump in questa cosa esatto ti devo dire una cosa che io sto ancora recitando lui sta recitando ma noi abbiamo finito il video ti puoi muovere ok regalo finisce grande raga super grazie a tutti